Civil Week 2024, in questo momento siamo a Robecco sul Naviglio, nella propagine ovest della città metropolitana di Milano, proprio quasi ai confini, perché arriva fin qui a Civil Week, va veramente in tutta la città metropolitana e ho il piacere di essere qui con... Vani Incariccardi, Associazione Ciri di Capofila di ATS, la Casa delle Culture. Allora, siamo in un posto bellissimo, che io anzi invito Viola a far vedere intorno a noi, tra cascine, parchi, insomma, è veramente un posto bellissimo. Dove siamo? Allora, siamo a Borgo Archinto, è una zona di Robecco sul Naviglio che viene utilizzata spesso per organizzare feste e festival. In particolare, questa tensostruttura che abbiamo alle spalle è, diciamo, la sede del nostro festival, la Creatività Crea Cura, che è una tre giorni in cui proviamo a ragionare attraverso performance, laboratori, workshop, tavole rotonde sulla connessione tra la creatività e la cura, proprio nell'ottica del tema della Civil Week. E infatti, e quali sono questi tre giorni, casualmente? Oggi, ieri e domani. Ieri e domani. Ieri e domani, la Civil Week. Esatto. Un grande studio da punto di Civil Week è un'iniziativa che... Adesso non facciamo l'elenco perché sono ovviamente poi tantissime le associazioni che passano di qua a dare loro contributo e tutto. In questo momento cosa sta succedendo? Allora, in questo momento si sta svolgendo un laboratorio teatrale interculturale che si chiama Muri, Mischio Nishiradici Identità. È un laboratorio di teatro sociale che viene condotto da Ciri Di, appunto, e che va a lavorare proprio sulla creatività e la cura come tema nell'ottica della partecipazione dei cittadini alla vita sociale, insomma, alla vita del territorio. Ha detto le parole magiche, partecipazione e cittadini, insomma, fondamentali ormai in tutto, forse, e ancora di più poi quando parliamo di civismo e terzo settore. Esatto, infatti ci siamo collegati proprio al tema della Costituzione Siamo Noi, proposto da Civil Week, con l'idea che anche l'arte e la creatività sono un modo per fare la propria parte come cittadini, per partecipare alla vita civile, politica, sociale, e siamo convinti che il benessere derivi anche da quello, da quanto i cittadini si sentano protagonisti nelle proposte. Diamo anche l'appuntamento per domani, allora, cosa succederà domani, durante la giornata, che ora, quando, come? Certo, magari dico anche oggi che è la giornata più piena, dunque oggi pomeriggio avremo questa tavola rotonda. Ok, Alberto, mandaci in onda in fretta, allora. Quindi oggi pomeriggio avremo proprio una tavola rotonda con diversi esperti del settore sulla creatività e la cura, e in particolare sulla cura della comunità, quindi proprio il tema cuore della Civil Week. E questa sera, un momento molto più festivo, dove avremo danze popolari, una performance di danza, un DJ set e sempre la possibilità di mangiare con lo street food. Domani pomeriggio, invece, un appuntamento dedicato a bambini e famiglie, con workshop per i genitori e laboratori per i bambini e una merenda aperitivo ancora, e per finire un'azione di arte partecipata in cui tutti saranno coinvolti a creare qualcosa che lascia una traccia rispetto al tema del nostro festival e alla partecipazione. Insomma, anche questo è Civil Week, anzi, questo è proprio lo spirito della Civil Week. Partecipazione, c'è danza, territorio, insomma, la Costituzione siamo noi, e anche qui a Robbecco su Noviglio. Ma chissà dove andremo adesso? Beh, rimanete collegati perché lo scopriremo ancora lungo il viaggio nella Road, anzi, nella Civil Week 2024.